Musica Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video Allora come promesso oggi andiamo a parlare dei nuovi campioni della torre sventura Vi premetto già che a me piacciono tantissimo Le modifiche che sono state fatte alla torre mi piacciono tanto Mi è stata resa per certi aspetti ancora più difficile Alcune sale segrete sono state modificate Ma comunque insomma parleremo di tutte queste cose oggi Allora i boss aggiunti sono ovviamente due Il grifone e questo drago eterno Hanno meccaniche completamente nuove Tranne il grifone che secondo me assomiglia molto ad alcuni boss delle cripte di fazione Boss che vedremo tra l'altro in particolare domani Quindi insomma tutti i video di questa settimana sono molto legati l'uno all'altro Ma senza perdere tanto tempo ci fiondiamo direttamente dal grifone intanto E vediamo che cosa fa Eccoci dunque, allora partiamo da quelle più esterne Anche lui ha la solita immunità onipotente Quindi immune a qualsiasi cosa Lo sappiamo con la seconda passiva Limita tutti gli effetti di riduzione del contatore E in questo caso sarà una cosa positiva Ve lo garantisco La terza passiva è quella insomma che ci ricorda Che i danni fatti su questo campione Da destrezza che fanno appunto danni sui massimi HP Verranno limitati un sacco Faranno solo il 10% dei loro potenziali Quindi addio ai vari Septimus, Guardia Reale e così via Ha una pletola di passiva in quest'uomo La quarta passiva ci spiega che fondamentalmente Tutte le modifiche ai contatori che facciamo nel nostro team E tutte le modifiche che cerchiamo di fare Contatore avversario Quindi del grifone Subiranno un effetto speculare Quindi se togliamo contatore a lui Ci verrà tolto a noi, a tutta la squadra Se aumentiamo il nostro contatore Pomperemo anche il suo Nel caso in cui uno dei nostri campioni Si trovi con 0 contatore In seguito a uno di questi scambi Allora riceverà uno stordimento Questo significa che non vale la pena Controllare il contatore Allora non vale la pena Basare la partita sul fatto che lui Non prenda mai turno Un po' come si fa con il Cavaliere Pirico Per esempio Però controllare il contatore avversario Entra certi limiti Non è che sia poi così fastidioso Soprattutto se ci portiamo dietro Campioni come Sventura Che sono in grado di rimuovere Immediatamente gli stordimenti Che si prenderanno i nostri campioni Perché potrebbe essere utile Perché comunque la velocità Con cui i nostri campioni Riempiono il contatore di turno È superiore a quella del boss E questo ci potrebbe permettere Di prendere due o tre turni in più Insomma magari di fare cose utili Magari di fare quelle 3-4 mosse Che ci servono per chiudere la partita Poi altra cosa particolare Tipica di questo campione Aggiunge un buff vincolo celestiale Che non è un buff È scritto così Però vedete In alto Insomma quella specie di aletta blu Questa insomma ecco Indica il buff vincolo celestiale Che però non è un buff È un segnalino insomma Più ne ha e più fa cose Ogni buff vincolo celestiale Aumenta i seguenti valori del grifone Appunto Attacco, tasso, danno e velocità Si accumula fino a 20 Dopo una certa soglia Comincerà ad ignorare scudi Blocco danno inammazzabile E così via E può accumularne fino a 20 Quindi un bel bonus Un bel boost Veramente potentissimo Di tutte queste statistiche Importanti Vedrete che L'ideale è non farlo salire Più di tanto Quindi Se ne mette uno Già ad ogni turno In più se ne mette un altro Ogni volta che un nostro campione Scende al di sotto Del 50% di HP Capite che è molto molto importante Anche per l'altra Passiva Di tenere i nostri campioni Costantemente Al di sopra del 50% Infatti Inoltre Attacca un nemico Ogni qualvolta E soglia che HP Scendono al di sotto Del 50% E gli mette anche Una riduzione guarigione Del 100% Per due turni Quindi allora Questo ci fa capire Che Dobbiamo stare attenti A come si manipola Il nostro avversario E dobbiamo anche stare attenti Alla vita Dei nostri campioni Non devono mai scendere Al di sotto del 50% Perché intanto Prendono subito Un bel po' di danno Questa skill Fa molto molto danno Ma poi facciamo salire Vertiginosamente Questo Questo buff schifoso Insomma Vincolo celestiale Quindi attenzione E poi ci sono le skill Attive Quindi Lui segue In questo ordine Che vi faccio vedere adesso Quindi Prima rimuove tutti i buff Da tutti i nemici Dopodiché attacca tutti La rimozione del buff Non può essere contrastata Il danno aumenta Del 10% Per ciascun buff rimosso Questo significa che Dovremmo iniziare la partita Senza mettere buff Altrimenti Rischiamo veramente Di perdere I campioni più fragili O comunque di farli scendere Al di sotto del 50% Di HP Quindi si inizia Senza pomparsi La seconda skill Che utilizzerà in sequenza Trasferisce tutti i debuff Dal grifone A ciascun avversario Dopodiché attacca Tutti i nemici Riempie del 5% Il contatore di turno Di Grition Insomma Per ciascun debuff Trasferito In questo caso Ancora più importante Non caricare troppo Il boss Di debuff Perché se lo facciamo Intanto Ci ritroviamo tutti quanti Addosso E poi lui Si prende turno Praticamente Immediatamente Quindi attenzione Perché la sequenza In cui facciamo le cose È estremamente importante Con la sua skill primaria Invece attacca un nemico 100% di probabilità Di mettere strizza Va bene Quindi Come ci si comporta Con questo signore qui La cosa più importante Secondo me È evitare di fare Qualsiasi cosa Per i primi due turni Quindi per i primi due turni Semplicemente Si attacca il boss Con la skill primaria Comunque con le skill Che non mettono buff Non mettono debuff Non fanno cose Poi qualcosa Per forza Il boss se la prenderà Perché ci sono campioni Per esempio Come Schilla Che sono potentissimi Contro questo boss Che mettono Riduce velocità Con la skill primaria Insomma Quindi non possiamo farci niente Comunque Allora È passato il primo turno Del boss E lui ha cercato Di rimuovere Tutti i nostri buff Non ce n'erano Quindi poco male Adesso andiamo avanti Anche in questo caso Vi consiglio di continuare A non caricare Il boss Di debuff Di qualsiasi genere Perché poi Ce li ritroveremo Tutti addosso Quindi continuate Ad attaccarlo normalmente Fate passare il tempo Non preoccupatevi Non succede niente Perché il suo danno All'inizio Non è per niente alto Anzi È gestibilissimo Comunque vedete che adesso Ha sparso un po' I vari debuff Scusate Che aveva Sui nostri vari campioni Nessun problema Quindi adesso Possiamo cominciare A fare sul serio Contro di lui Per esempio Possiamo cominciare A pomparci Di buff a noi Possiamo pulire Tutto quanto Cosventura Ma lei lo fa già di su Insomma Quindi ottimo campione Possiamo Cominciare A mettere Riduci difesa Riduci attacco Cosa del genere Che sono strautili E cominciare a menarlo forte Perché abbiamo Un turno Ancora a disposizione Abbiamo appena usato Il turno in cui Lui poteva utilizzare Soltanto la sua skill primaria E abbiamo anche quello In cui rimuove I debuff Quindi niente male Insomma Anche perché poi Se il tempo scorre Insomma Se i turni scorrono Nella maniera corretta I suoi debuff Scadranno E quindi non potrà Trasferire assolutamente niente Allora Questo boss Lo ritengo addirittura Quasi più semplice Da questo punto di vista Rispetto a quello Della cripta di fazione Dei mutaforma Dei gli orchi Mi pare che sia anche Sia anche Dei cavaliere di vivi Perché fa Tutto nello stesso Identico turno Nello stesso turno Rimuove tutti i buff E sposta tutti i debuff Che ha su se stesso Quindi c'è questa ulteriore Cosa in più Lui lo fa in due turni Invece il grifone E' chiaro che è più pericoloso Per altri aspetti Insomma Però è gestibile Ora avete visto La modalità facile Perché quella difficile Ci sta andando avanti Abbastanza lentamente Però si può fare Si può fare Con la stessa identica Dinamica che avete visto Adesso Si riesce a fare Tranquillamente Anche contro il difficile Quindi non preoccupatevi E' soltanto una questione Insomma Di fare le cose Nell'ordine corretto Se voi rispettate appunto Questi ordini Quindi non caricate troppo Di debuff Non vi caricate voi Troppo di buff Attaccate quando è necessario Farlo Allora riuscite a gestirvela Insomma In quei turni Che lui vi dà a disposizione Perché poi Quando comincia a caricarsi Di segnalini Comincia a menare Veramente forte Insomma Quindi c'è tempo Però gestitevelo E poi c'è il drago eterno Altro boss Fantastico Che mi piace veramente Anche un po' di più Del grifone Per certi aspetti Introduce delle meccaniche Inaspettate Veramente veramente Molto simpatiche Comunque allora Forza onnipotente Come abbiamo già visto Limita i danni Che può prendere Dagli attacchi Basati insomma Sugli massimi HP Quindi va bene Con questa invece Ultraterreno E avete visto Che non ha più Immunità onnipotente Quindi vuol dire Che le cose cambiano Contro questo boss Sarà immune Ai vari controlli Stordimento gel E così via Riduzione velocità Riduzione guarigione Immune anche Agli effetti di scambio HP Ma questo lo sapevamo E agli effetti Di riduzione Del contatore di turno Un po' come succede Per il drago Vero e proprio Per il drago magmatico Insomma abbiamo capito Che ai draghi Non gli piace Quando gli viene manipolato Il contatore È immune A bloc a destrezze Tempi di ricarica Ma non alla manipolazione Ma non alla manipolazione stessa Poi di crearsi Alleati Tutti i componenti del team Si troveranno Praticamente senza La possibilità di fare nulla Che non sia la sua skill primaria Ma lui si prenderà Anche un sacco di contatore Sarà immediatamente pronto Per utilizzare questa skill Quindi attacca tutti i nemici Infligge danni bonus Per ciascun turno rimanente Sui tempi di ricarica Delle destrezze Di ogni avversario Più 20% Per ogni turno Di tempi di ricarica È tantissimo Cioè questo danno qui È Tantissimo Soprattutto perché Viene dopo Che lui ha utilizzato La sua terza skill Che farà immediatamente Visto che si è preso contatore E in più Mette anche strizza Su quei poveri disgraziati Che sono rimasti in vita Uh Questa combo qui È veramente pericolosissima Con la sua skill primaria Attacca tutti i nemici Piazzomba Blocco destrezze Tempi di ricarica Per un turno Quindi anche con la prima Può essere pericoloso Visto che lo metterà Su tutti quanti Ipoteticamente Insomma Può essere resistito Però attenzione Allora La cosa importante In questo boss È sfruttare Campioni Come Elegaius Appunto Che hanno la possibilità Di imporre Tutti i tempi di ricarica Le destrezze Significa che proprio Lo metteremo In cooldown Vedete Le sue due skill Più potenti Lui non le può più Utilizzare per tre turni Che è fantastico Io mi porto dietro Anche Basher Per sicurezza Ora I tempi di ricarica Di Elegaius Sul boss Sono abbastanza sufficienti Per far sì Che lui Riesca a gestire Insomma Riesca a gestire Senza più problemi Ma Nel caso in cui Venga resistito Perché questa cosa Può essere resistita Nessun problema Perché c'è anche Basher Che eventualmente Ci può dare una mano Vedete che mi sono preso Sventura Perché Sventura È utilissima In questo caso Il boss Con la sua prima skill Può mettere Blocca destrezze I tempi di ricarica Ma non è un problema Per noi Perché appena Prende turno Sventura BAM Pulisce tutti E si ha pulito Tutti quanti E allora tutti Saranno di nuovo Pronti per fare Le loro skill Ora Avete visto Una battaglia Contro il boss Facile Semplicemente Perché non sono Ancora arrivato A questo livello Del boss Difficile Lo farò Nei prossimi giorni Insomma Eventualmente Vi darò I miei feedback In futuro Ad ogni modo Si può fare È gestibilissimo Se si utilizzano Questi campioni Quindi campioni abili A imporre i tempi di ricarica E poi un campione bravo A pulire tutti quanti Sventura è la migliore Poi la vedremo Anche mercoledì Naturalmente Nelle analisi bradipe E comunque Insomma ecco Questi sono i due boss Non è facile Se non avete Questi campioni Quindi se non avete Qualcuno che impone I tempi di ricarica Difficilissimo Tutti quelli Che non hanno fuso Elegaius all'epoca Perché lo ritenevano Una pipa Adesso potrebbero Trovarsi nei guai Perché se non hai Basher è un problema Se non hai Sinesha È un problema Insomma se non hai Questi campioni Che devi avere fortuna Insomma che ti escono Dalle schegge E non è così scontato Capite Avere qualcuno Tra l'altro anche Di leggendario Che vi esce Da una fusione Poteva fare la differenza Lo scopriamo adesso Ma in realtà Già lo sapevamo prima Perché Elegaius Non era male In Torre Sventura Neanche prima Adesso È veramente tantissima roba Tanta 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 roba E poi hanno aggiunto Alcune sale segrete Particolari Veramente Veramente Molto insidiose Per chi non è stato Previdente nel tempo Quindi Utilizza solo Campioni rari Del vuoto Impegnativo Veramente Molto impegnativo Cioè qui stiamo parlando Di Torre Facile Di Torre Facile Non di Torre Difficile Io sono molto molto curioso Di sapere che cosa troverò Poi Nei vari livelli Della Torre Difficile Perché se partiamo così Ho visto già Molti miei compagni di crano Hanno avuto difficoltà In questo livello Perché non avevano Tutti i campioni Insomma Non avevano Non arrivavano neanche a 5 Per campioni rari Del vuoto Intanto perché I campioni rari Vengono Praticamente Snobbati O utilizzati Veramente Veramente Molto molto poco Ed è un peccato Perché ci sono Tante piccole chicche Lasciamo perdere Per un attimo Le Corglaciale Piuttosto che Mughiante Insomma Che sono noti Campioni del vuoto Rari potenti E anche Guarda Tormenti Se vogliamo Per il suo utilizzo Nei vari Poste clan Nei vari timini ammazzabili Insomma Che la prevedono Però anche Stiletto Stiletto mi ha cambiato la vita Ne parleremo Più nel dettaglio Quando Vi mostrerò La cripta Dei gonfalonieri Però vi assicuro Che Stiletto A me Ha cambiato la vita In un sacco di contesti E soprattutto Mi ha permesso Di chiudere Questo livello Con una facilità Veramente Veramente Incredibile Però mi rendo conto Che tanta tanta gente Avrà un bel po' Di problemi con questa Soprattutto ecco Potrebbe trovarsi In preparata Detto questo Raga Il video di oggi Finisce qui Video abbastanza veloce Mi interessava parlarvi Dei nuovi boss E anche Del modo in cui Possono essere affrontati Sono alcune dritte Non è niente Di approfondito Niente di particolare Magari poi ne parleremo Più nel dettaglio Mano a mano Che salirà la difficoltà E queste informazioni Potrebbero essere Semplicemente Poche Però sono corrette Quindi se vi portate Dietro questi campioni Vedrete che non avrete Grossi problemi Ecco Soprattutto Sicuramente Nella torre facile Zero In quella difficile C'è da vedere Comunque poi Ci arriveremo Assieme Detto questo Raga Il video finisce qui Come al solito Vi invito a lasciare I vostri commenti Qua sotto A lasciare un mi piace Se avete gradito Mi raccomando Molto importante Perché All'iscrizione Al canale del Pradipi Furiosa Sono stati attribuiti Miracoli Quindi c'è gente Che ha ricominciato A camminare C'è gente Che ha ricominciato A vedere Ad ascoltare Insomma Quindi Fatelo Perché potrebbe essere Veramente molto importante E infine Come dico sempre Siate furiosi Ma rimanete Pradipi Grazie a tutti